buongiorno sono riccardo di fbbike.it oggi vi presento la nuova lapierre overvolt am 7.6 ovvero l'enduro made in francia interpretata dall'azienda lapierre azienda molto racing la overvolt 7.6 e non è la top di gramma abbiamo un modello superiore che è la 8.6 ma diciamo è il modello rapporto prezzo qualità e prestazioni più interessante del catalogo partiamo con un prezzo di listino da 5.399 euro ma nel nostro negozio che vi metto il link la potete trovare scontata e scendiamo sotto i 5.000 per un prodotto veramente interessante se siete interessati non perdetevi questo video seguitemi ecco qua la overvolta m 7.6 come vi stavo dicendo la 7.6 è una top di gamma ha solo un modello superiore a questa però questa per noi è il modello che più si presta per rapporto prezzo qualità ovviamente per chi va a ricercare una top di gamma comunque in stile francese un solo colore per il modello 7.6 che è questo bellissimo black yellow con queste rifiniture grigie la pierre ha investito molto sulla qualità dell'alluminio da utilizzare per i propri telai infatti qui viene utilizzato un alluminio particolare che ha una classe 70 75 chiamato dalla lapierre supreme 5 o supreme 5 questo alluminio permette di creare telai molto resistenti avendo spessori più sottili e spessori differenziati nelle varie parti del telaio è una tecnologia molto interessante per un materiale di qualità che permette di andare ad avere la rigidità di un di un alluminio e i costi di un alluminio ma più leggero e più prestazionale quindi alluminio per la nostra overvolta am 7.6 il cuore performance x generazione 4 e una batteria da 625 watt come vedete io ho lasciato la chiave di sgancio perché mi sono promesso di farvi vedere come si estrae la batteria in questa splendida e bike e come la pierre abbia studiato questo particolare innesto batteria per uno scopo ben preciso ovvero concentrare i pesi nella zona più bassa della della nostra e bike per renderla molto maneggevole e non sentiamo assolutamente quello che può essere il peso percepito di questa questa e bike quindi pesando circa 26 chili guidandola vi servirà di avere una bici muscolare questo grazie allo studio di la pierre posizione dei pesi che vanno ad abbassare molto il baricentro creando una bici veramente maneggevole sia in salita che in discesa il display è un display purion il display base della della bosch non ve lo sto a presentare perché ve l'ho fatto vedere un sacco di volte le funzioni del purion andatevi a vedere qualche altro video che ho già fatto ma la cosa bella è la facilità in cui è possibile sostituire il display con un kiox o un ion di nuova generazione con il navigatore semplicemente accedendo da questo sportellino in plastica che permette quindi di trovare qui sotto tutti i connettori di collegamento della parte elettrica al performance x quindi sostituire il display in questo caso è molto semplice perché basta sgangiare lo spinotto da sotto questo sportellino e andare a passare il cavo per il nuovo display la trasmissione corona 34 denti e una pedivella di lunghezza differenziata ovvero per la taglia s e m abbiamo una pedivella da 160 mm mentre per la lxl da 165 mm cambio la pr ha scelto un deragliatore sram gx lunar a 12 velocità quindi il nuovo deragliatore della sram 12 velocità che vanno da 11 a 51 a 50 denti con il pacco pignoni quindi 11 50 in 12 velocità abbiamo veramente una marcia per ogni esigenza vedete anche i passaggi cavi protetti da gommini è veramente messa molto bene mentre il trigger al manubrio abbiamo un click to click quindi è possibile selezionare una sola marcia alla volta sempre della stessa linea sram il click to click io lo condivido su un e bike perché per un discorso di di trazione e aiutata poi dall'assistenza di un motore elettrico è meglio per per la durata della vostra trasmissione cambiare una sola marcia per volta freni anche qui abbiamo gli sram con l'anello di ritenuta che va a prendere sia la leva del freno che è il trigger mentre dall'altra parte abbiamo la leva del freno con l'anello di tenuta che va a prendere anche la leva per reggisella telescopico questo impianto frenante della sram è nuovo anch'esso ovvero viene chiamato g2 r è abbinato a una pinza a quattro pistoni sempre della stessa linea g2 sia al posteriore che all'anteriore con la differenza che all'anteriore è stato utilizzato un disco da 220 mm mentre al posteriore abbiamo un disco da 200 mm quindi veramente un impianto frenante da da down wheel diciamo da discesa quindi è un impianto molto molto potente e funziona molto bene devo dire l'ho provata è un impianto nuovo perché il g2 non lo conoscevo veramente funziona bene ammortizzatori quando parliamo di una e mountain bike da enduro bisogna per forza parlare delle sospensioni all'anteriore montato in questa posizione con questi tipi di leveraggi quindi è un montaggio orizzontale del mono posteriore è stato scelto rock shock del lux da 160 mm di escursione con attacco trunion ovvero un attacco in testa all'ammortizzatore quindi un trunion 206 per 60 deluxe select plus con 160 mm di escursione qui tramite questa levetta è possibile sbloccare o bloccare l'ammortizzatore mentre la rotellina rossa serve per il rebound ovvero il ritorno forcella interiore e qui c'è da parlarne un po perché questa e bike monta una delle mie forcelle preferite ovvero la rock shock nuovissima zeb da 38 specifica per e mountain bike con un'escursione anch'essa da 160 mm e un offset da 44 mm questa versione della rock shock zeb è la versione charge ad aria non ha il registro il bloccaggio scusate sulla forcella quindi questa è veramente una forcella da enduro lavora sempre aperta e qui abbiamo il carico dell'aria qui c'è il ritorno il rebound quindi come tutte le forcelle rock shock avrà la lepre la tartaruga in base a quanto volete rapido il ritorno questa forcella io l'adoro non so ormai chi mi segue lo sa perché per me ha un prezzo qualità tra i migliori presenti sul mercato la pierre la scelta per questa splendida e bike e tanto di cappello perché a livello di sospensioni qui veramente veramente ci siamo continuiamo con la descrizione quindi le nostre sospensioni approvate motore batteria approvato trasmissione approvata parliamo dell'impostazione che la pierre ha data a questo enduro come ormai va di moda da da tanto da diversi anni la pierre utilizza un cerchio da 27 e mezzo al posteriore con un canale molto largo per ospitare una gomma da 2.8 che in questo caso è una minion di hr 27 e mezzo per 2.8 molto ben fatto il cerchio made la pierre quindi è un cerchio di che produce la la pierre ma è una gamma alta sinceramente è un ottimo cerchio attacco bost molto scorrevole mentre all'anteriore abbiamo un cerchio da 29 per 2 e 50 di gomma quindi cerchio da 29 anch'esso un canale largo e la gomma scelta è sempre una maxis però è una sgay quindi all'anteriore un utilizzo di gomma differente non poteva mancare come avevo detto prima il reggisella telescopico sempre made la pierre marchiato la pierre reggisella telescopico con escursione differenziata ovvero questa è una taglia l e l'escursione che monta è un 150 millimetri mentre per la taglia m monta 130 mentre per la taglia s monta un 120 millimetri quindi hanno deciso di variare l'escursione del reggisella come giusto che sia in base alla taglia il manubrio si differenzia in base alla taglia cosa significa che per la taglia sm abbiamo un manubrio di larghezza 760 mm con un ris da 15 mentre come in questo caso una taglia l o xl abbiamo un manubrio da 780 mm con un ris 30 come in questo caso quindi ancora una volta la pierre si è vero ci dà la possibilità di un solo colore per ogni modello però ogni modello è stato differenziato in base alla geometria della taglia guardate l'attacco manubrio veramente fatto bene ricavato dal pieno marchiato la pierre è un attacco manubrio di qualità non è classico attacco manubrio leggerino o medicina questo è fatto veramente bene così come la serie sterzo che presenta due cuscinetti enormi di uguale diametro che garantiscono una maggiore rigidità e durata nel tempo della vostra serie sterzo veniamo alla sede della batteria perché vorrei farvi vedere come si estrae e la batteria da questo telaio come vedete non ci sono sportelli sotto il telaio questa soluzione unica perché non conosco altri marchi che hanno adottato una soluzione simile permette innanzitutto di non avere lo sportellino e quindi di eliminare le eventuali rumorosità o problematiche correlate a uno sportellino come si estrae la batteria chiave si inserisce si ruota in senso antiorario e praticamente si va a sbloccare il pernio che ora un po sporco vi consiglio di tenerlo ben lubrificato questo pernio blocca la batteria in modo che non esca dalla sua sede a questo punto è semplice perché si va a estrarre la batteria in questa maniera ecco qua vi faccio vedere la batteria sta proprio sulla parte più inferiore che era possibile installarla veramente siamo ad abbassare il peso il più possibile sulla parte inferiore della vostra e bike per inserire la batteria servirà altro che farla scorrere nella sua sede forza un po perché precisa perfetto batteria inserita quindi se considerate che la batteria parte da questo punto fin qui abbiamo abbassato il baricentro in maniera notevole eliminando le problematiche di uno sportellino siamo giunti al termine ovviamente abbiamo provato questa questa e bike e devo dire che questa questo telaio con questo abbinamento del del cerchio da 27 e mezzo e 29 all'anteriore che l'abbiamo visto in altre numerose tipo la semplione pro della lombardo l'abbiamo visto su cube l'abbiamo visto su ktm ma questo telaio consente oltre ad essere molto maneggevole di risparmiare il consumo della batteria è una cosa strana che ci siamo chiesti facendo le prove questa consuma meno batteria il perché a mio avviso è perché andando in salita tende ad avere un anteriore molto leggero e quindi molto scorrevole questo permette di sfruttare al meglio l'assistenza che offre il motore e quindi con una minore assistenza riusciamo a fare salite più più impervie rispetto ad un'altra e bike alla fine si conclude che si va più veloci volendo oppure si va a risparmiare la batteria questa è una cosa molto particolare perché ho provato tante tante bike ma il fatto che stesso motore stessa batteria su un telaio su un altro i consumi di solito erano sempre paritetici in questo caso abbiamo notato questo aspetto molto interessante proveremo ancora è molto è molto intelligente quindi andare a ottimizzare il consumo della batteria anche grazie a un'ottimizzazione di quelle che sono le geometrie del nostro telaio bene troverete il link in descrizione se siete interessati all'acquisto non c'è pronta consegna ci arriveranno da ottobre a marzo del prossimo anno quindi in base a chi ha prenotato la e bike usufruirà di un prezzo particolare uno sconto particolare per chi prenota la prenotazione non è vincolante nel senso che lasciate un acconto ma se trovate queste bike da un'altra parte un'altra bike che vi piace di più vi basterà telefonarci e chiedere la restituzione della dell'acconto quindi non è vincolante bene ho concluso qui questo questo video spero vi sia piaciuto mettetemi un like iscrivetevi al canale un saluto da riccardo ciao